Intanto un gran bel successo perché assieme ai 40 anni celebriamo una crescita del 40% rispetto al 2013 e quindi al lavoro di questi ultimi anni nella presenza delle gallerie e quindi abbiamo un'arte fiera pienamente in forma come la più antica, la prima ma oggi anche la più grande piattaforma di riferimento per l'arte italiana, per il gallerismo italiano. Un'arte fiera che si celebrerà a sé ma la città e quindi con giorni veramente straordinari, tante iniziative, alcune molto molto importanti, cominceremo il 17 di dicembre con la mostra dedicata a Pasolini, proprio qui al Mambo, un evento speciale di cui parleremo nei prossimi giorni al Teatro Comunale, un evento davvero speciale e poi un'arte fiera che oltre ad essere in questa occasione la vetrina più bella dell'arte moderna e contemporanea italiana guarderà gli artisti di questi anni e dei prossimi con un premio dedicato proprio agli artisti giovani selezionati da un comitato molto autorevole e significativo.